Ciao, mi chiamo Matteo e oggi vi voglio presentare il nostro progetto per aiutare il caso volcanico di La Palma. Vi presento il nostro progetto che è una maglietta con simboli di quella piccola isola. I prezzi delle nostre magliette sono di 10 euro, sono di buona qualità e anche per aiutare la nostra isoletta. Grazie per la sua collaborazione.